Deve essere qua dentro, non può toccare lì eh, non può toccare il traste. Mi concentro bene, non si tratta di concentrarci, si tratta di accettare che devi imparare una cosa, ti devi far insegnare, non puoi imparare da solo, guarda, allora qui va bene, però la nonna ha detto che da qui non si può uscire, ok? Le dita, io non lo so mettere mamma, fagli vedere il modo che non può uscire, allora vieni un attimo qua, attenzione, vai fagli vedere un attimo lì, così, vedi che la nonna guarda con la manina non va qui, non esce, perché bisogna stare prima, ok? Ok, devi mettere le dita prima, ehi, sto parlando con te, devi mettere le dita prima della seconda linea, ok? Sì, prima, non dopo, perché se vai sopra la linea o dopo, allora suona un'altra cosa, va bene? Prova a farlo tu. Sì, nonna, guarda nonna come fa, così, adesso farlo te. Guarda, allora, guarda la manina dov'è, metti la manina, metti la manina, dove ce l'hai la manina? Se ce l'hai sopra la? La linea. Eh, ti ho detto che non puoi metterla sopra la linea, deve stare prima, guarda un po', deve stare prima. Guardami, ma non c'è bisogno di piangere, perché la mamma ti vuole aiutare, anche la nonna ti vuole aiutare, ok? Sì, anche l'orchestro, sì. Eh, Christian, nonna e mamma ti vogliamo aiutare, vogliamo che suoni? Tu vuoi imparare a suonare o non vuoi imparare a suonare? Imparo a suonare. Ok, allora, per imparare a suonare che cosa bisogna fare? Christian, allora, ascoltami, sei calmo, posso parlare con te? Sì. Ok, allora, per imparare a suonare che cosa bisogna fare? Bisogna ascoltare? Ascoltare. E guardare? E guardare. Vuoi diventare bravo? Sì. E allora perché piangi? Eh, posso essere bravo. Vuoi essere bravo? Sì. Ok, allora basta che stai tranquillo e lo facciamo piano piano, non c'è bisogno che lo fai subito, ma c'è bisogno che guardi, che ascolti, che stai tranquillo, va bene? Sì. Le cose non si possono imparare subito, in due secondi, ok? Sì. Si imparano piano piano, guarda un po'. Allora, fai un po' la, faglielo vedere tu, nonna, d'acqua la, solo lo spazio. Guarda, nonna ti fa vedere, no? Bravo, così, così. Bravo, vedi? Hai toccato solo lo spazio, perché le righe non si toccano. Bravissimo. Bravissimo, vedi? Fammi vedere un po'. Bravissimo, suona un po'. Hai visto? Bravo, hai visto che ce l'hai fatta? Cantiamo tutti? Sì. Biki bala, biki bala, biki bala, compagnia. l'hai fatta velocissima l'hai fatta vero? hai visto amore che sei bravissimo? si e tu ti fai spiegare e impari le cose si non c'è bisogno di piangere vero? si e gli grazie a nonna che mi ha insegnato grazie a nonna che mi ha insegnato adesso quando viene il nonna stasera ti insegna l'altro apporto va bene? si devi cambiare per questo qua dai piqui pala, piqui pala, piqui pala sono gairo piqui pala, piqui pala piqui pala, soy central piqui pala, piqui pala, piqui pala compañero piqui pala, piqui pala, piqui pala sois central come fa qui can ppf chan-اذ pıyoruz chan-chan Du o qui controcora dove tu vas io voglio a 4 cammini so come la malla e viro pa' tra pufà, chan chan pufà, chan chan io voglio a 4 cammini so come la malla e viro pa' tra e se tiene delante mira che te doa il tren 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 adesso fa lo te con la malla al secondo traste qua qui 1 2 e 3 come ti ha insegnato a nonna qua bravo vai bravo Cristian sei bravissima verà buona nina